ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo contenuto come vedete siamo tornati con l'auto version che a molti piace in realtà già anche settimana scorsa mi chiesero ma i video in auto version tornano in realtà ragazzi non è che sono programmati nel senso li faccio quando purtroppo non c'è abbastanza tempo da farli nel nostro studio quello è comunque giornale ovviamente alla mano come sempre mi sono fatto la mia solita lettura allora ieri abbiamo visto piccola parentesi abbiamo visto ancora un altro pareggio in campionato per quanto riguarda milan savernitana che attendevamo ieri mattina se vi ricordate che ci siamo visti e alla fine hanno pareggiato buono quindi le grandi tra virgolette le inseguitrici se così così possiamo chiamarle continuano a stopparsi buon per noi perché noi continuiamo ad andare avanti loro continuano a frenarsi vabbè detto questo si parla di lobotka in particolare hanno intervistato lobotka hanno fatto una marea di domande io non sto qua ovviamente a dirvi a leggervi tutte le domande tutte le risposte però si è parlato grosso modo del suo rendimento da quando è arrivato al napoli fino ad ora e tutta la crescita ovviamente che ha fatto il giocatore che ora non è in discussione ovviamente perché è uno tra tra è una delle tante colonne portanti ovviamente di questo napoli sotto gli occhi di tanti altri club ovviamente che lo seguono ma lui è stato abbastanza chiaro nel senso che ha detto io ora voglio vincere tutto quello che si può vincere se si può vincere e voglio restare voglio restare al napoli questo queste sono ovviamente le note principali di tutta questa di tutta questa intervista che ha fatto il signor lobotka e vabbè poi come ho detto ripeto racconta tutta la sua storia no con con chi è stato vicino chi meno racconta di de laurentis che la società sta facendo molto bene diciamo i suoi idoli tra virgolette tra cui xavi iniesta i soliti vabbè come sempre capita che un giocatore ovviamente va a ricordare proprio quei giocatori forti che comunque sono più o meno nel ruolo in cui si giocano e poi gli chiedono della champions ovviamente dato che come io ho detto sto dicendo ultimamente il discorso campionato è abbastanza non dico diciamo non è che è fatta al 100% però siccome la strada sembra abbastanza spianata nel discorso campionato gli hanno chiesto gli hanno fatto giustamente la domanda sulla champions e lui ovviamente dice sarà un percorso difficilissimo cosa che io vi dico da sempre perché ragazzi la champions è un'altra storia cioè mi dispiace dirlo la champions è un'altra storia da una parte da una parte io sono ottimista attenzione e da una parte io capisco tutti quelli che dicono andiamo in finale con quella convinzione forse un po troppo spinta però cerchiamo di restare anche coi pidi per terra nel senso che seppure non dovesse accadere io applaudirei a prescindere per quello che si sta facendo comunque poi vediamo perché anche lo bot che giustamente dice che è molto difficile però provarci giustamente non costa niente cioè nel senso il napoli non ha niente da perdere in tutto questo ha soltanto da da mettere in cassaforte e da migliorare non ha assolutamente nulla da perdere a mio parere e anche a parere suo quindi siamo siamo tutti d'accordo su questo è ovvio che ragazzi è scontato che se andiamo avanti siamo tutti contenti è ovvio no più il napoli va avanti e più siamo tutti quanti stracontenti questo mi sembra anche stupio dirlo però se non dovesse accadere va bene va bene comunque l'applauso si deve fare a prescindere e poi ovviamente la siccome questa è la vigilia la vigilia del ritorno di napoli francoforte io ieri ne ho parlato un po ho preferito parlare più del discorso degli scontri che potrebbero esserci all'esterno dello stadio ma oggi si parla del di calcio proprio e per quanto riguarda i famosi tra virgolette infortunati infortunati e non in realtà allora lo zano pare che sia tutto a posto quindi sto aspettando un eventuale momento per tornare in campo kim anche spalletti a sta aspettando il suo ok per per essere pronto e schierarlo in campo e probabilmente anche raspaduri anche meret si sta aspettando ovviamente ai medici per capire se ce la può fare stessa cosa anche per raspaduri a quanto pare recuperato e forse lo vedremo in panchina quindi quindi attenzione nel caso contrario che kim non dovesse farcela proprio nell'ultima ora e anche meret ovviamente già sono pronti i sostituti quindi eventualmente la formazione di domani sera dovrebbe essere gollini o meret o meret o gollini poco cambia poi di lorenzo racmani poi ci dovrebbero essere kim oppure y jesus che è pronto ad entrare nel caso in kim non ce la facesse dall'altra parte ovviamente olivera o mario rui poi a centrocampo i soliti tre ovviamente lobotka anghissà e zielischi avanti ci dovrebbero essere quelli là che sono che sono partiti dal primo minuto proprio sabato con l'atalanta cioè politano kvaraskelia e osimen ripeto lo zano dovrebbe ci dovrebbe essere ma non partirebbe eventualmente titolare almeno quel da quello da quanto ci riporta dovrebbe partire dalla panchina idem forse rospaduri e idem diciamo forse per chi me meret ripeto il discorso è diverso perché se danno l'ok sono proprio in campo invece gli altri due probabilmente partirebbero dalla anzi senza probabilmente partirebbero sicuramente dalla panchina cioè lo zano e meret scusate lo zano e chi era l'altro e raspadori ecco qua perché quelli sono quattro lo zano e raspadori seppure dovessero superare il problema comunque partirebbero dalla panchina mentre se kim e meret dovessero dare l'ok partirebbero titolari al posto loro eventualmente golini e guayesus che comunque fanno sempre bene noi partiamo ovviamente dallo 0 2 della trasferta non voglio dire per l'ennesima volta non voglio dire che è fatta perché non è ancora se non è ancora sicuro però ragazzi 0 2 in trasferta in un momento del genere in casa tua sinceramente non mi aspetto niente di diverso da quello che ho visto anche sabato quindi mi aspetto un napoli cattivo che nel primo tempo si mangia il francoforte come è successo ovviamente all'andata e si chiudono velocemente le pratiche veloci proprio veloci veloci e si pensa a quello che in realtà già sto pensando io che vi ho detto ieri la settimana scorsa cioè i sorteggi di venerdì perché quelli mi mettono veramente molta curiosità ovviamente io seguirò anche le partite di stasera perché stasera ci stanno il city e l'inter e sono molto curioso di vedere che cosa succederà e poi vabbè domani teoricamente sia napoli che real madrid diciamo che sono qualificate non mi aspetto niente di diverso dai risultati dell'andata quindi diciamo che napoli e real che che appunto giocheranno napoli francoforte e real madrid liverpool io già le vedo ai quarti entrambe detto questo faccio sapere commenti cosa ne pensate di questo discorso ovviamente europeo e lasciate like ovviamente iscrivetevi soprattutto al canale continuate a sostenerci mi raccomando caricatevi perché mancano poche ore e mancano poche ore a domani sera e grazie ancora a tutti quanti e noi ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi